Ciao a tutti, sono Filippo Sara e questa è la prima puntata della Fila Academy e vi spiegheremo i segreti sull'uso dei freni. Per fare questo ho bisogno di due persone con me. La prima è Augusto Stognolo, campione brasiliano, campione americano e mio grande rivale nella VSK e nel campionato italiano. Dall'altro lato abbiamo Super Lollo Bros, il nome di Instagram perché normalmente, come avreste capito, si chiama Lorenzo e mi aiuteranno a spiegarvi questo tutorial per voi. Questo è il mio go-kart, come vedrete è un tonic art, il motore Iame e alla guida c'è Augustus con dietro Lollo che ci aiuterà a spiegarvi. Ragazzi, una domanda per voi. Avete 5 secondi per rispondere. Quanti freni è un go-kart? Tempo scaduto. Avete detto uno? Beh, è sbagliato perché ci sono due freni sul go-kart. Il primo è il freno, cioè il pedale e invece il secondo, non l'avreste mai detto, ma è il volante. Adesso chiederò al mio amico Super Lollo Bros di spingere Augustus sul mio kart e col volante dritto. Prego Super Lollo. Adesso Augustus ti chiedo un favore. Gira un po' il volante di pochi centimetri. E Lollo prova a spingere il kart adesso. Avete visto che girando il volante fa molta fatica a spingere il kart? Anzi, fa fatica, non riesce proprio a spingerlo. Au, hai visto che con questo tuta real abbiamo imparato molto che il volante è un gran freno? Sì, sì. E secondo te ti servirà il SIC a me e il SIC a te in queste gare? Sì, tipo per me servirà in questa gara, cioè io torno tantissimo il volante, io lo so che il kart vai a frenare. Eh, ci servirà molto in queste gare, mi sa. Sì. Barra 4 settimane, veniteci a vedere. Però intanto vorrei lanciarvi un esempio. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.